Ricordo che fino a poco prima di ballare continuavo ad avere ansia. Ansia che durante la preparazione mi dava filo da torcere. Ansia che ballando, per fortuna, andava via. Vincere quella sfida era un po' come vincere le mie paure. E quasi significava continuare a vivere i miei sogni qui nella scuola di amici. Raimondo aveva notato questa mia difficoltà nel gestire l'ansia. Per questo mi disse che mi avrebbe messo in discussione più spesso. Proprio perché avrei dovuto imparare a superare tutto questo. Dovevo imparare ad essere più tranquillo. All'improvviso, durante una puntata... Raimondo ha preso una decisione sul suo allievo. Non intendo eliminare Mattia perché non ha fatto nulla di grave. Al momento non intendo sostituirlo. E non posso nemmeno metterlo in sfida in quanto è mio allievo.